Verrà a breve stipulato un protocollo con il Ministero affinché le telecamere della rete urbana di videosorveglianza, che tra l'altro saranno incrementate, vengano collegate con i sistemi informatici delle Forze dell'Ordine, cosa che consentirà oltre che al personale della Municipale, anche agli uomini di questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza, di accedere direttamente ai filmati. È una delle decisioni prese nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per discutere sui numerosi rinvenimenti di siringhe nel centro di Isernia e sugli atti vandalici, su richiesta del Sindaco Pentro, Piero Castrataro, presenti oltre al primo cittadino e al prefetto, Franca Tancredi, il questore Vincenzo Macri, il comandante provinciale dell'arma Vincenzo Maresca, il tenente colonnello delle Fiamme Gialle Roberto Giusti e il comandante della Polizia Municipale, Antonio Di Nardo. Verranno previsti inoltre tavoli tecnici anche con le altre parti sociali coinvolte, nell'ambito dell'attività di prevenzione che è già stata ampliata sia in città che nei centri limitrofi, come spiegato dal prefetto. Sono state implementate tutta una serie di servizi straordinari che vengono decisi in sede di comitato ma anche di riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine. A partire dalla scorsa primavera, proprio nel territorio del comune di Isernia, di Venafro, e verranno ulteriormente implementate anche in altri comuni. Questo non esclude però la possibilità di intraprendere delle iniziative multidisciplinari insieme all'ente locale, insieme ad altri enti, ad altre istituzioni, penso alla scuola ad esempio, ma penso anche alle associazioni di categoria. Per Tancredi tuttavia la situazione di Isernia non evidenzierebbe un problema di sicurezza se non percepita, ma un fenomeno di degrado che va comunque risolto. Le forze dell'ordine a 360 gradi stanno svolgendo un'attività di controllo e anche di prevenzione sul territorio. Per quanto riguarda la percezione della sicurezza, c'è una percezione dell'insicurezza da parte del cittadino che lamenta la presenza di siringhe abbandonate. Ma là ci muoviamo in un campo che è completamente diverso, che è quello del degrado eventualmente, per il quale magari sarà necessario un intervento maggiore dei servizi che raccolgono i rifiuti ad esempio. In città in ogni caso, ha sottolineato il prefetto, non si registra un quadro patologico sul fronte del consumo di sostanze stupefacenti. C'è una fisiologia, ma non una patologia. Qua non abbiamo tanto piazze di spaccio, ma piazze di consumo. Allora si potrà intervenire con tutta un'altra serie di misure, ma che coinvolgono altri soggetti istituzionali, con il coordinamento della prefettura. Grazie.